Ciao a tutti ragazzi, qui è Fortegamer che parla e benvenuti in un nuovo video. So che non sono stato molto attivo ultimamente, però ho avuto un botto di esami ragazzi da fare all'università, ma ora, per farmi perdonare, sono tornato con una reaction a un mio vecchio video, uno tra i più amati, della mia primissima volta in cui ho fatto 22 kills in oro masseccio. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto, vi ricordo soprattutto di attivare la campanellina e per questo video nostalgico, ragazzi, lasciate un like. Era tempo che avevo una nostalgia veramente incredibile dai vecchi tempi di Fortnite, specialmente vedendo tutti gli aggiornamenti, tutte le cose nuove, e mi sono detto perché non ricatapultarci nel passato. E quindi sono tornato a tre anni fa, a maggio 2018 di Fortnite. Vi lascio la reaction, boys, e andiamo a cercare su YouTube appunto 22 kills, Forto the Gamer. Prima di iniziare, ragazzi, vi ricordo solo di andare all'interno dell'Eidem Shop e di inserire il codice creatore Fortu, così come vedete a schermo, accettate, e da ora ogni acquisto che farete mi farà ricevere una piccola percentuale, grazie mille a tutti quelli che lo faranno. Ok, ragazzi, quindi ho cercato 22 kills Forto the Gamer qui su YouTube e sono usciti una carrellata di video vecchi, veramente, ragazzi. Quello che vedremo oggi è il mio primissimo 22 kills fatto su Oromassiccio, e tra l'altro in un solo versus squad. Ed era, ragazzi, ben tre anni fa. Diciamo che fin da subito si può notare come io avessi qualche anno in meno. Nel particolare, ragazzi, era il 25 maggio 2018, quindi ha fatto tre mesi circa da due mesetti. Vabbè, ci sta, ragazzi, ma io ero veramente molto più piccolo. Andiamo, mi sono messo anche le cuffie. Sono pronto. Ciao a tutti, ragazzi, qui è Forto the Gamer che parla e benvenuti in un video su Fortnite. Oggi, ragazzi, la mia miglior partita. Da solo contro le squadre... Ma quanto ero piccolo, che cos'è questa barba che c'avevo? Ero orrenda. Perché nessuno me lo diceva? Andiamo in game. Andiamo. Siamo a Pinnacoli, da soli, contro le squadre per... Pinnacoli! No, questo video sta iniziando male, questo video sta iniziando molto male. Oro massiccio, o meglio, nella modalità oro massiccio, perché per oro massiccio. E ragazzi, vediamo un po' come ce la chiamiamo, perché questa è la nostra prima volta sul canale con... In questa modalità, insomma. Abbiamo gente forse sul tetto? Sì, sta per scendere. Mi spiace, caro mio, ma ti è andata male. Dai, sta fermo. Oh, ti permette. Il piccone faceva ancora dieci di danno. Fra? Dai, volto, è sick. Eh, mamma mia. Stavo facendo, ovviamente, il deficiente. Voglio farlo con la deserticola, ma evidentemente, ragazzi, non so usarla. Lascia stare. Mi devo anche una di queste, tanto non ci interessa. E vorrei vedere nella cesta qui che ci sta. Quello lì non lo riusccio. Mamma mia, ragazzi. Sarei capace di riprendere tutte le cesta a memoria di Pinnacoli Pendenti. Tutte, da la prima all'ultima. Guardate, non l'ho ucciso, tanto crema da solo. Attenzione sotto, credo ci siano un buon due o tre persone, eh. Se il mio dito non mi inganna. Ok, qui c'è uno. Distrutto. Ah, c'era ancora la Jug. Mamma mia. Altro colpito solo una volta. Mamma mia, certo che, ragazzi, qui si giocava proprio a taralluce e vine, eh. Mamma mia. Com'era bello. Com'era bello. Guardate che, ragazzi, avrei potuto anche fare molte più kill se avessi avuto molta più foga. Ok, qui ero l'entuccio. Io mi ricordavo molto più veloce. Ok, siamo già a quattro kill, però politica e 54-4 non è male, anzi. Attenzione, prossimo. Così, un altro. Come i birilli. A me si sta facendo un po' troppo calda per i miei gusti, eh. Attenzione, uno lì. Bello, cavolo. Ma lo Scar non aveva un minimo di rinculo, ragazzi. Qui ho rischiato tantissimo. Mamma mia. La minigun. No, fra... Dimmi che le... Non l'ho presa. No, perché? Qui sono andato in pre-fire completamente a caldo. Trappolona. Ah, quella aveva 75 la trappola. Beh, niente di che. La trappola è messa qua sotto. Wow. Davvero forte. Complimento. Cazzadissimo ero. Proprio deluso. Mi sono preso un vantaggio di 36. Poco. Ok, bella. Ma tra l'altro con la boogie bomb. Voleva quasi colpirmi con la boogie bomb. Ok, mi sono mosso da pinnacoli con 26-9, ragazzi. Che voglio dire, non era per nulla male. Eh, tra l'altro qui non ho trovato team da 4, sbaglio. Ok, qui ne vedo 2. Ci provo, dai. Dai, che si può fare? Dai, distrutto. Ha scomato di sangue e il compagno è incazzatissimo. Dai, hai la jump. Salta quella jump. Pusha lì. Diciamo che si può fare. Come? No, vai. Bravo. Quello è un cecchino, infatti. Rischiata, eh. Non li vedo molto svegli. No, non lo so, infatti. Bella, una terra. Caro mio, ti rianimi il compagno oppure rest in safe? Che fai? Ero nel panico. Ero nel panico. Perché? Scusami, ma non era un fight così complicato. Spara! Bravo. Ah, ma c'è sta... Ah, ha rianimato il compagno alla fine. Dai! Ok, GG. Questi quanti sono? Sono due? O comunque, ragazzi, lo scar aveva veramente una rosa minima. Cioè, era fortissimo. Oh, c'è chi data! Attenzione! Sette, tipo... Cavolo, ragazzi, ne avevo pure... Mamma mia, tenevo due team addosso. Ovviamente, mi sono messo in mezzo due team. Vabbè. Quale novità, quale novità. Attenzione, dai, a terra, a terra. Questo è fatto! Ok, a posto. E potevo anche evitare di confermarmelo, perché in realtà è stato pericoloso. C'era molta gente. Secondo me sì. Che gli ho ucciso il compagno. Qui, ragazzi, avrei potuto pushare. Io giuro, io giuro che sto premendo. Però il gioco non mi vuole costruire, cavolo. Ragazzi, avevo 160 di ping, perciò il gioco non mi costruiva. Che è una linea un po' così. Poi dietro c'avevo pure quei nemici. Il team non è molto sveglio, si può fare. Wow, uno, ragazzi, lo sbagliato io. Cavolo, distrutto. Altro che. Dai, push! Ah, perché non pusci? Qua, qua, ragazzi, veramente potevo fare... Faccio il fortino perché... Potevo fare 25 kill e passa. Solo che avevo 130 di ping. Ottimo. Non confermarlo. Lascio stare. Stando stare in safe. Uh, proprio su di me. Allora, guarda. Mamma mia. Quello avrebbe fatto male. Sì, sì. Oh, io. Amico lì. Bello. Headshot e white. Conferma. Bello. Mamma mia, ragazzi, com'era bello questo Fortnite. No, ragazzi, magari si potesse tornare indietro. Non sapete che nostalgia avevo di quei tempi. Bella. 15 kill. 12-15. Ottimo, dai. Ma guarda che... Doppia scala senza rinforzo. Un po' così, eh. Bella. A terra. Erano in tre. Terzo. Vai, vai, vai. L'ultimo. Easy. Easy, uno scarso. Dai. Dai. Conferma. Che panico che mi hai fatto dire. Ok. Nove quanto? Otto, sedici. Mamma mia, boys. Ah, no. Sette, diciassette. E sei diciotto. Mamma mia. Che furto. Panico, boys. Sono quasi colpito. Dai, 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 dai. A posto. 4-19. Ah, qui cavolo, stavano fightando seriamente, eh. Qui sono riusciti comunque a raggiungermi. E poi, tra l'altro, questo aveva il fucile a pompa. Io con lo scar. Mamma mia. Qui cosa ho combinato? Avrei dovuto costruire. Mi è andata bene però 2-21. Ok, manca l'ultimo. Però perché non ho preso il fucile a pompa? Avrei dovuto, eh. In questo caso. Mi fidavo fin troppo dello scar. Qui avevo visto il nemico sotto la scala. Stavo ricaricando. E l'avevo colpito. Era nel panico. Non abbiamo provato il jetpack, lo so, ma... Let's fucking go, baby. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Troppi ricordi. Ragazzi, abbiamo superato la 20 bombs. Mamma mia. Io piango. 22 kill, ragazzi. Il record. La mia miglior partita. Io, ragazzi... Io me ne vado. È brutto crescere. C'è quest'altra, ragazzi, fatta, se non sbaglio, una settimana dopo. Sempre su oro massiccio. Ah, questa non è una settimana dopo. Fatta tre giorni dopo. Cavolo, GG. Vediamo. Sempre questi brutti baffetti. Ma nessuno mi diceva niente. I miei genitori, i miei amici. Nessuno mi diceva fatti sti baffetti. Vabbè. Ok. Tra l'altro partiamo già con una kill. Nei primi sette secondi. Scusate, ragazzi. Oh, povero, ragazzi. Escezione. Ok. Avevo una pistola piccola, però vabbè, scialla. Bello, vabbè, lasciamo stare. Comunque, nulla. Mi andavo a fare un intro veloce, dato che non volevo fare quella solita, insomma. Questo è quanto. Non è vero. Semplicemente mi avevo dimenticato di fare l'intro mentre scendevo. Lo faccio sempre in tutti i video. Ogni volta cerco di appararmi dicendo questa stupidaggine. Andiamo avanti. Ma cosa stanno facendo? Costruite! Vabbè, sì. Buttati a terra proprio easy. Ero nel panico. Perché? Anzi, ma ho un altro... Attenzione. Rischiatissima. Devo curarmi immediatamente. Tipo, c'avevo la slurp attiva, ma ero tipo morto. Guardate la mia faccia! L'olima aveva sbagliato. Eh, sì. Sono più bravo io, ma giusto perché sono riuscito ad adazzeccare gli qualche headshot. Altrimenti ero morto. Attenzione. Tutti questi con la pistola erano pericolosissimi, però lui era senza scudo. Il tetto ha detto se riesco a nuotare qualcuno. Non ho trampolini, va bene. Guarda, cavolo. C'hanno il fortino fatto. Dai, forto la mira! Ok, a terra. Conferma. Bella. Vai, 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 vai. Dai! Bella. Attenzione. Mamma mia! Cecchinata. Mi ha fatto male. Cecchinata, Waiu. Rischiatissima. Questa è stata rischiata, eh. Ero nel panico. Guardatemi, boys. Non sta procedendo male, anzi mi piace. 42,9. Allora, ne vedo uno. Erano tutti white. Una volta erano tutti white. Ma come è possibile? Sì, vediamo che l'avrebbe costruito. Mettiamola così, eh. Bello. Guarda, questo push è aggressivissimo. Fai vedere la scala. Oh, la scala. Prima che si azzecca. Perché? Oh, forse stavo utilizzando i suoi materiali. No, ma io ne avevo. Boh, non me lo spiego. Attenzione. Guarda, questo tizio è incapace. Spara, fordo. Lo voglio eliminare veramente con la trappola. Ok, forse volevo eliminarlo con la trappola. Che deficiente che ero. Che cosa crei di parlare col me stesso del passato? Come se potesse sentirmi. Buonasera, nella safe è brutta. Questa era brutta con la safe che levava due. Questo secondo me è white, per forza. Mamma mia, forto la mira però, eh. No, cavolo, ce l'ho scudo. Non è un team, non è un team. Ok, è solo. Ok, è a posto. No, vabbè, stava messo male. 14-13, eh. Cioè, quello mi stava guardando mentre ero in safe. Come ho fatto a guardare nella tempesta? Ma che c'avevo? I cheat, un altro po'. Attenzione, da dietro. Certo che era un toro infermabile. Un treno, proprio. Dai, nammo. Cadi, cadi. Che scarsoni che erano, mamma mia. Dai, 67, 33, 100, 133, 167. Dai, no. Un altro 34. Mi hanno rubato la kill, eh, qua. Sì, mi hanno rubata. Ci avevo pure messo la cazzone sotto, signori. Eliminato, bella. In volo. Cavolo, stavo pushando un team in un fortino. Un pazzo ero. Rischiatissima qua, eh. Ragazzi, erano in quattro ero morto. Una terra. Bella, conferma. A posto. Gli altri staranno sotto. Jump, buono. C'erano dei cecchini però dalla montagna, eh. Ragazzi, quante kill mi sono state rubate. Era uno contro quattro. Mamma mia, pazzi. Dai, 36, no. Ma c'hai quattro jump però, scusami, eh. Dai, eliminatelo questo, a posto. Vai, distruttore 238. Bella distruttore. Se stai guardando questo video ti salutiamo. Vediamo un po'. Qua mi sono preso dai ground. Dai. Stavano provando a rianimare il distruttore, ma è stato buttato a terra anche questo. Mamma mia, quanto cervello stavo utilizzando per fare scala rinforzo. Di nuovo a terra il distruttore. Sì, era sempre lui. Sbagliata, sbagliata. Due colpi non mi li potevo permettere. Dai. Ok, a posto, ultimo. Qui mi ricordo che volevo fare la cabbata. Me la ricordo che lanciai dei buchi. E non andò la prima. Non andò la seconda. Io nel panico dissi, vabbè, fammelo eliminare. Let's fucking go, baby. Mamma mia, ragazzi. Un'altra partita fighissima. E wow. Non so perché, ma le mie outro dei video vecchi mi fanno emozionare, mi fanno commuovere. E che dirvi ragazzi, io credo che una bella iscrizione al canale dopo queste due partite ci starebbe. Veramente, io a un certo punto nel video volevo commuovermi. Ricordare così bene le vecchie cose e riscoprirele soprattutto è stato fantastico. Vi ricordo ancora di iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate fatto, di attivare la campanellina e soprattutto di lasciare un like. Nel caso vogliate anche altre reaction, perché di video fighi così ne ho veramente un botto. Che dirvi boys, ne ci becchiamo alla prossima. Ciao. Musica